La solidarietà non ha confini, si allarga di giorno in giorno il numero di aziende che hanno riconvertito la loro produzione per rispondere alla crescente domanda, non solo da parte degli ospedali lombardi ma anche di tanti comuni abruzzesi. C'è chi come l'azienda Aurora Fashion di Villa Magna è stato capace nel giro di pochi giorni di abbandonare le prestigiose griffe per passare alla creazione di camici e mascherine. Ascoltiamo il giovane imprenditore Gianni Piasone. Per cercare di dare una mano inizialmente alle persone della vallata, per cercare di proteggerle perché questi dispositivi, parliamo delle mascherine, sono irreperibili e pertanto noi abbiamo deciso dapprima per farle per noi, dopodiché le esigenze della popolazione purtroppo ci ha obbligato a far sì di produrle e quindi abbiamo iniziato questo percorso. Adesso con fiducia stiamo cercando di fornire chi ce lo chiede, comuni, qualche farmacia, siamo in attesa di ricevere la validazione da parte degli SS per poter avere la validazione e quindi la certificazione. Nel frattempo forniamo questi dispositivi come non di P, ma sicuramente contribuiscono a proteggere le vie respiratorie bocca e naso da un eventuale possibile contagio. La nostra non è una missione commerciale, economica, ma vuole essere soprattutto qualcosa che possa aiutare i nostri concittadini nei paesi qui limitrofi. Nel frattempo abbiamo avuto anche la richiesta di produrre dei camici monouso per la sanità lombarda e stiamo dando una mano anche a queste aziende del nord che hanno bisogno di maestranza per la produzione. Un altro aspetto importante è il mantenimento dei posti di lavoro. Attraverso la nostra riconversione, così in modo consecutivo alla necessità, cerchiamo di mantenere quelle che sono retribuzioni, posti di lavoro con questa nuova attività lavorativa e con la speranza che possa continuare e che il mondo si possa riprendere nel più breve tempo possibile. I nostri dipendenti ci stanno dando una mano con assoluto coraggio e determinazione. Quindi va un grazie a loro da parte nostra, da parte della famiglia Biasone e di Felice che insieme gestiamo l'attività di questa nostra azienda. Quindi un grazie di cuore ai nostri dipendenti con la speranza che questi sacrifici possano portare salute al nostro comprensorio. Grazie. Grazie.